Ciao a tutti i versi per questo canale, oggi sono qua per continuare la sabbia dividete con questa mossa perché divieto insombro ma quando c'era questa mossa l'ho comprata e vendita di quello qui comunque sono ritornati ferma mia vita, abbiamo qualcosa di interessante grazie, questo si è stato difficile, si questo è morto, si ok, e questa è la strada ragazzi, che nello scorso episodio cercavamo e qui siamo già entrati nel tempio il lago veloce vieni vieni Orson all'attacco bravissimo e vai ce la facciamo sempre ehi in faccia guarda guarda e il focato facciamo una supermassa e il focato facciamo una supermassa e il focato facciamo una supermassa ahhh da dietro lo so ahhh ahhh ok con quelli nere con quelli nere passiamo da qua in mezzo laggiù la luce siamo all'interno del tempio ad anelli oh bianco inizia la battaglia ce la godiamo nooo sta perdendo guarda un elfo chiaro cosa sta facendo oh no l'hanno ammazzato perchè lo cibo non ha fatto niente di male non giudicare stai assistendo alla fine della guerra non sai cosa abbia condotto a questo ma non si è nemmeno difeso è stata la sua scelta è stato fatto niente siamo per mendigareci avete fatto del male a quello del focato noi lo sappiamo vero ragazzi non avevo fatto niente di male Ho lasciato i battacoli tutti! No! 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 E si! 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 Ti voglio! si 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 ho comprato anche un altro muovo sotto il mosso sempre con i denari e questa e questa non l'ho cambiata perchè è bellissima ok adesso dovrebbe sbloccarsi la nuova zona sei lì e sbloccarsi la zia non ci sono altri sicuro risalto le non mi siete mancati affatto esserini sto molto attento stavolta questi sarili non mi fanno niente andatelo si è spaventato e si è andato ah ah se la vede lui con i cani ah con due colpi l'hai fatto apretti sesamo apretti sesamo ah si è aperto con due apretti sesamo che schifo di cosa oggi si dovrebbe sbloccare la nuova zona una nuova zia mi spiego perchè ho detto una nuova zia come zia carina ma questo sentiero è bloccato vabbè noi siamo bravissimi dovranno farli ci sono tre afficchiari vabbè gli afficchiari non dobbiamo farli niente gli afficchi scuri sono il problema ma questa roba c'è acqua marrone non si leva scrivete uno nei commenti cioè perché non si leva mettiamo apposta la nostra show sì credo di sì è vicino a noi vai arrampiciamoci come faremo a fonderla albifroste se non è capito da entrare non lo è fonderla spossa da questo legno no io non l'ho sentita penso che fiora la sua legna mi chiacca al nostro scopo tranquillo vai il gioco attacca 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 vai il gioco attacca attacca vai il gioco attacca attacca ok sono il nostro fan sono il nostro fan va bene ragazzi ci vediamo dopo no 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 no